Io ho preso una transenna e l'ho messa in mezzo al cazzo. Sono una gazzella. Come sono una gazzella? Perché avevo assunto alcoli stupefacenti? O perché sono un po' deficiente? O perché sono uno stupefacente? Era un gioco, non capisco. Abbiamo scopato. Ma gridavate? Sì, dottoressa. Tutti e due? Sì. Facevate i lupi? Sì, ma sono una gazzella. E poi cos'è successo? Ho sopraggiunto una gazzella dei carabinieri e sceso i carabinieri. O dicendo uva, proprio te stanotte stavo cercando. Lasciami gridare. Bestemmiando. Rinnegari il cielo. Questa te la faccio pagare. Batterai la testa mille volte contro il muro. Io stemmiando gli ho detto, ehm, signori, adesso sono cazzi i vostri. Eh, loro mi hanno detto, facciamo il carabinieri posto. Lei aveva assunto droghe? Sì. Aveva assunto alcoli? Sì, dal pomeriggio. Quando ha cominciato quel pomeriggio a drogarsi? Sì, dal pomeriggio. Beh, fare uso di sostanze stupefacenti e... Posso avere fumato 15 spinelli. Per lei gli spinelli sono spinelli o sono fusi? Scusi, non è giusto. Non sono molto esperto di queste cose. Io di solito faccio un mix. Cioè mette insieme asci, c'è tabacco, arrotola, la marijuana. Arrivate al bar. Sì. E lì ordinate... Che cosa? Dal pomeriggio. E poi siete usciti. E dove siete andati? Eh, siamo andati in un bar. E cosa avete fatto? Abbiamo bevuto due black russian, un paio di cocktail, due stupefacenti, qualche birra. A testa? Eh, sì. Ero un ubriaco sereno? Non ho capito. Eh, sicuramente non barcollavo. E sicuramente non caccavo. E non ero ubriaco, dice. Eh, io ero dignitosamente brillo. Era? Sereno. Era? Sì.